A tradirlo è stato il tatuaggio sull'avambraccio sinistro. Pasquale Sibillo per cinque mesi era riuscito a farla franca, continuando ad andare in giro nel centro di Terni, diventato il suo rifugio. Mercoledì scorso agenti delle squadre mobili di Terni e di Napoli e uomini del servizio centrale e operativo lo hanno fermato qui, mentre era a bordo di un'auto in via Bramante ed è qui che sono scattate le manette. Killer spietato, Sibillo a Terni si muoveva nell'ombra facendo la spola tra l'appartamento di alcuni familiari che l'ospitavano ed altri due covi, uno in stazione e l'altro a Maratta. Abbiamo iniziato una scrematura sulle possibili allocazioni, partendo ovviamente dal suo parentato fino ad arrivare da alcuni affiliati ai clan. Baby boss del clan di cui porta il cognome, protagonista della violenta faida in corso nel capoluogo campano, Lino, come lo chiamano, è accusato di associazione mafiosa, omicidio e tentato omicidio, traffico di sostanze stupefacenti e distorsioni. Ora la cittadina Umbra si interroga su possibili legami con la criminalità organizzata. Non esiste una città, una provincia che escevra completamente da criminalità di questo tipo. Manteniamo alta l'attenzione affinché determinate compagini non possano attecchire nel tessuto sociale del nostro territorio Umbro come in qualsiasi altra regione. Le indagini si allargano alla rete di complici e fiancheggiatori. Una donna è stata denunciata per favoreggiamento. Sarebbe lei ad aver affittato al boss l'appartamento in città.